Nostro schermo e che ha fatto molto arrabbiare i tifoni, questa sfida sarà appunto il Milan, il prossimo avversario della Juve, sono insomma in competizione per aggiudicarsi il passaggio del turno. Però questa partita è invenciata, che non era male. Sentiamo cosa ne pensano, Teccare già il passaggio del turno. Esatto, esatto, non ce la faranno. Sentiamo la C, due del Salisburgo. Due? Sentiamo Luca Pastorino, l'ultimo commento e devo chiudere. Aiva!